Una nonnina di 75 anni ha realizzato il sogno di qualunque hacker, privare della connessione a internet due interi paesi. Ayassan Shakarian, giorgiana, non ha usato però criptici codici, ma un paio di cesoie. Con quelle ha troncato di netto la fibra ottica che consentiva a Giorgia e Armenia l'accesso alla rete. Il sabotaggio sarebbe però stato inconsapevole. La donna era alla ricerca di rame da rivendere e in prossimità di un tratto ferroviario nella Giorgia orientale si è imbattuta nei fatti di Cicavi. Arrestata rischia una condanna fino a tre anni, ma è molto probabile che ottenga una sospensione della pena a causa dell'età.